Era già una notizia scontata, stasera abbiamo formalizzato, il mister è pronto anche per la Serie D. Noi abbiamo sempre quella speranzuola di poter competere nella categoria maggiore. Intanto ci stiamo preparando, oggi abbiamo depositato in Lega tutta la documentazione che ci dà la possibilità di fare la Serie D perché non tutti hanno quei requisiti per la Serie D. Di altro, forse in questo momento è prematuro aggiungere altre cose, noi siamo contentisti del mister, abbiamo stellato pure un programma di massima su alcuni giocatori sia da riconfermare o da acquisire per questa categoria, diciamo così, imperiore dove ci vogliono. Alcune figure giovanili, pensate 97, 98 e 99, sono 4, significa quasi il 40% della squadra deve essere composta da giovani e dobbiamo guardare in questo momento a questo, poi l'altro si vedrà. Presidente, quanto bisognerà aspettare ancora per sapere se sarà Lega Pro o Serie D? Oggi c'è qualche, chiamiamola buona notizia, perché confermano quelle che erano le nostre perplessità anche del passato e sono state escluse, però si sa che quando vengono escluse in prima battuta c'è sempre la possibilità entro il 14 di mettersi in regola, io mi auguro che tutti si possano mettere in regola che è nel giusto e il giorno 14 o dire venerdì avremo forse un risponso più definitivo anche se c'è ancora il 20 di luglio quando il Consiglio federale si riunirà per stabilire gli organici del campionato. Noi speriamo per quella data di poter portare avanti qualche altra cosa, qualche poco di acqua al nostro mulino, ma intanto in questo momento siamo qua. Presidente, nel frattempo avete bloccato lo zoccolo duro della squadra, avete chiesto a diversi giocatori di aspettare. Ma non si tratta di zoccolo duro, tutti mi chiamano salvo qualcuno che già si è accasato giustamente tipo Saranite, tipo Cogliati, mi dicevano oggi che anche Viola è pronto a fermare per la Juve Stabia, ma si sa, non è che possiamo tenere in eterno i ragazzi in attesa, tutti erano pronti, chi per la Serie D ha dato la disponibilità, ma chi voleva restare però in Serie C io posso capire che ognuno guarda in alto, specialmente chi ha più chance è giusto che sia così. Vedremo nei prossimi giorni, intanto abbiamo opzionato anche altre figure, ma è prematuro fare no fino a quando non firmano, è inutile parlare.